La tua azienda lavora tramite una rete distributiva esterna? Sei un distributore e vuoi ampliare la tua rete di networking? Oppure la tua soluzione può facilitare le scelte di management e imprenditori? Team Global Media, storico partner di FNDI, Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale, organizza Industrial Distribution Week. Dal 12 al 16 aprile, una settimana di webinar con l'obiettivo di mettere in contatto in maniera innovativa i fornitori, i distributori e tutti i più importanti esponenti del settore per un efficace scambio di esperienze e strategie proprie di quel mondo PMI rappresentato dalla distribuzione. Un programma straordinariamente ricco e variegato in continua evoluzione con relatore di eccezione provenienti dalla federazione e non che daranno il loro contributo su temi di capitale importanza quali? Il networking e la strategia, dinamiche di acquisizione e vendita, economia e distribuzione con un particolare focus sul recovery plan, logistica e gestione di magazzino. Questi e molti altri saranno gli argomenti. Una vetrina perfetta nel quale far sentire la vostra voce. Industrial Distribution Week. Dal 12 al 16 aprile, il punto di contatto con il mondo della distribuzione. Ovunque vuoi.